Buonasera, maravigliere. Io dico grazie. Mamma mia. Io sono sempre qua. Mamma mia. Sono sempre qua. Buonasera, maravigliere. Buonasera. Grazie, grazie. Sì, sì. Buonasera. Danni che son qua. No, ma non cantila, prego. E già, e già, risco e capirai. Sì, sì. E tu lo sai. Mamma mia. Per campare, devo vedere se no, son guai. A me tocca censura. Ma che ce posso fare? Io lo fai, io lo fai, io lo fai. Mamma mia. Buonasera, maravigliere. Buonasera, maravigliere. Siamo ancora qua. Grazie, grazie. Che bel momento. Chiamo ancora qua in sto bordelon. No, vabbè, bordelon è un... Guarda che bordelon che c'è. Sì, c'è tanto. E tutta gente è d'accordo di sto bordelon. Sì, tutti sono d'accordo. Tutti spesati per dire Mara, Mara. Saranno contenti anche di loro. Hai visto? Dicono Mara, Mara, lo dicono liberamente. Ci mancherebbe la sua trasmissione. Perché qua si può dire tutto. 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 Si può dire tutto. Non esistono trasmissioni dove si può dire Mara, Mara, Mara. Beh, ma se c'è Mara che conduce... Ma qua si può dire tutto. Ma il problema, guarda, non è... Mara, Mara. Ma il problema non è Mara. Ah, certo che si può dire Mara, ma non è quello il problema. Sono trent'anni che qui si può dire tutto. Tutto, va bene. Entendo la parola tutto. Ah, ecco la parola tutto. Si può dire... Cagigliola Cinquetti, dice Roberto Sergio. Si, abbiamo visto. Ha avuto la piena libertà di dire che va in tour. Eh beh, ci mancherebbe. Dice Roberto Sergio. Si. E non si ferma qui Roberto Sergio. Ma chi se ne frega della Cinquetti che ha detto... Sono trent'anni che dice... Trent'anni che in Rai si può dire la parola tour. Ma tour è ovvio che si possa dire, non è quello il... E l'hanno detta. Si, ma certo. E fa un elenco, Roberto Sergio. Fa un elenco di chi l'ha detta la parola tour. Ma non ci interessa. E non è che in tutti i programmi si può dire questa parola tour. Ma dove si va a promuovere un tour si dice... Perché io ho pianto quando ho visto che negli altri programmi dicevano la parola tour. No, ma guardi che lei confonde la parola tour. Io non avrei fatto dire la parola tour. Poi ho messo a piangere quando finalmente ho letto l'elenco di Roberto Sergio. Ma non ci interessa, è ovvio che... L'hanno detta tutti. Ma certo, immagino. Perché è iniziato Sergio Indrigo. Sì, adesso non faccio tutta la storia. Ma è iniziato Sergio Indrigo perché Sergio è nel Roberto Sergio. Ah, ecco me. Che tra l'altro non ha un cognome, ma dico a due... L'assonanza. E poi gli altri, da Mina, Neck, da Milva, Battisti, dai Dic Dic a Gali. Ti annunciava un tour, veniva da lei. E ora io ringrazio Roberto Sergio. Ma per cosa? Che ci permette di dire la parola tour. Ma è ovvio che... Mara, Mara! Sì, ma state buono. Mamma mia. Scusi un attimo, no, state fermi un attimo. Mara, scusi, ma la parola genocidio si può dire? La parola genocidio. Fermi un attimo. Cosa c'è? Fermi. Cos'è? Eh no, fermi per favore. Ecco, fermi tutti. Mi è arrivato un altro comunicato di Roberto Sergio. Mamma mia, un altro. Che dice, parole come nei migrati. Eh. Genocidio. Eh. Pace. Eh. Non sono affrontabili, dice Roberto Sergio. Ma perché? Eh, ma scusi, ma fanno parte del... In un baraccone come quello della domenica pomeriggio su Rei 1. Vabbè, questo lo dice... Che affronta il nulla con leggerezza, divertimento e spensieratezza. E un po' la linea editoriale, va bene. E continua Roberto Sergio. Continua, sì. Se volete il servizio pubblico e vedere un'intervista a Gali che parla di pace... Sì. Perché non guardate Amadeus? Perché tanto lui i comunicati di Roberto Sergio... Sì. Non gli arrivano. È vero, è vero. Devo obbedir se no son guai. Sì, vabbè, sempre. E mi tocca censura. Ma non deve farlo. Ma che ce posso far? Io lo fai, io lo fai, io lo fai. E' viva. Grazie Roberto Sergio. E grazie Andrea Zavone. Mi do anche queste. Grazie. Un applauso a tutti. Maria Vittoria, a Marianna, a tutti i ragazzi. Un applauso, grazie. Col mastice nella bocca.